Nella lettera di accompagnamento della raccolta firme abbiamo anche evidenziato un'altra preoccupazione che abbiamo in questi giorni, che riguarda i lavori di realizzazione della rotatoria e della viabilità delle opere di urbanizzazione nei pressi di questo nuovo complesso. Il cantiere è ormai iniziato da quasi un mese e ci sembra che i lavori procedano a rilento. Quindi c'è un primo aspetto che riguarda anche la sicurezza e la viabilità in questo periodo della fase di cantiere che ci sembra si stia protraendo nel tempo. Abbiamo paura quindi che questa situazione poi si protraga in là e quindi duri parecchie settimane se non anche alcuni mesi. Ma la preoccupazione più grande è anche poi in fase di conclusione dei lavori perché riteniamo che potrebbero generarsi delle forti criticità dovute alla circolazione del traffico e in particolar modo del traffico pesante perché riputando appunto il progetto ci sembra che i raggi di curvatura della rotatoria piuttosto che le ampiezze delle corsie di deflusso e di afflusso appunto in questo nodo siano abbastanza tirate. Pertanto noi abbiamo chiesto all'amministrazione e agli uffici che venga fatta una scrupolosa e attenta analisi in questa fase proprio per il principio che prevenire è meglio che curare. Per cui siamo ancora in tempo adesso a fare questa analisi. Speriamo di essere rassicurati e di essere anche coinvolti in eventuali considerazioni in merito.